Crazy Love Television Siamo in piazza Duomo Annola Questa sera giovani stilisti in Passerella Un evento davvero eccezionale Musica, spettacolo Ma naturalmente moda Moda a 360 gradi Ideato e condotto e diretto anche Da Nunzia Napolitano e Fabiola Olivieri Due ragazze che l'ho conosciuta un po' matte Tra l'altro poi tra un po' le portiamo anche Ai microfoni di Crazy Love Television Un evento oserei dire stupendo Condotto come direzione artistica Ma sul palco a condurre l'evento ci saremo noi Quindi è il momento di lanciare un po' il backstage Quello che è successo prima E poi riprenderemo una linea Per raccontarvi l'inizio di questa avventura Giovani stilisti in Passerella Piazza Duomo Nola Una volta fra noi c'era la gelosia Docce di intimità Sbagli di biancheria Fare sesso e farlo spesso in cucina io e te E ora stiamo così Due biscotti nel te E stiamo insieme Perché Facci, facci, lo so Una coppia così Con lui che sa dire solo bugie E lei che c'ha Un amante poi scao O fai così Altrimenti stay out Io mi pregheria adesso Se avete le mani occupate liberatele Perché quando le chiamo sul palco Dovete far sentire il vostro applauso Buonassissimo Che dici, le chiamiamo? Sì Sul palco qui in Passerella Duomo Muzia Napolitano E Fabiola Olivieri E che va bene Più belle che mai Ma raggiungete il centro Una è Nolana Un'altra è di Portici In provincia di Napoli Sempre Che sono le ideatrici folli Di questo evento Quindi sul palco qui questa sera Piazza Duomo Nola C'è Fabiola Olivieri E Muzia Napolitano Un applauso forte C'è Fabiola Olivieri Che dici le thune Che dici l'argent Che dici le dépense Che dici le crédit Che di créance Che dici le debt Che dici le huis should Che lui dici assi in la merde Che dici l'amour Che dici le gosse Che dici le toujours Che dici le divorce Che dici broche Che dici l'oeil Car les problème ne viennent pas seuls Che dici le crise Che dici le monde Che dici le famille Che dici le monde Che dici le fatigue Che dici le réveil Et encore ceux de la veille Alors on sort pour oublier Tous les problèmes Alors dans a 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 l'evento come avete visto dalle nostre immagini è scappato un po' di champagne e abbiamo giusto un poco Nunzi è stato un grande successo grazie grazie a tutti spero di rincontrarvi presto grazie a voi siete meravigliosi vi ringrazio davvero tanto e vi chiamerò sempre a tutti i miei eventi perché siete due persone splendide ma che carina Fabiola davvero una grande emozione qual è stato il momento più bello quello che ti ha colpito particolarmente la consegna delle targhe è vero perché è stata il finale è stato emozionante a te ti ha colpito particolarmente un po' di champagne particolarmente un po' di champagne e particolarmente Mario in rinato a zero e allora noi adesso sai che facciamo vi diamo appuntamento alla seconda edizione di giovani stilisti in passerella nola ma facciamolo abbiamo fatto prima fuori onda facciamolo adesso anche in onda un bel brindisi per queste due ragazze straordinarie auguri grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti